Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto in 1970 smetto di fare il cinema. Era molto nuovo al tempo, e ancora oggi. La musica che abbiamo continuato a sentire per tutta la vita, senza quella musica. All'inizio pensavo che la musica del cinema era un'emiliazione. Scrivendo io volevo la rinincita. Vincere su questa colpevolezza. Io sono fatto di tutto quello che era musica, che ho studiato. Scrivendo io Grazie.